ragazze buongiorno e buon giovedì 9 di giugno guardo il cielo allora sono le ore 12 e 5 circa adesso è un quasi sereno variabile questa mattina c'è stato il putiferio putiferio ragazze incredibile però ci siamo divertite molto con paola e dianora che sono state qui al negozio e mentre pioveva ci stiamo provando un sacco di cosettine allora questa mattina vi faccio vedere velocissima ma proprio velocissimissima il mio look of the day di oggi ragazze che vi devo dire io me ne sono innamorata l'avete visto anche nel boomerang che ho postato con la signora barbara che si è prestata molto gentilmente perché anche lei ha scelto la fantasia che indosso io del vestitino di raso vestitino di raso che già mi avete visto indossato l'altro giorno nella versione nera non ho resistito esco comodo pratico ragazze mi ci sono trovata talmente bene che ho detto mi manca la versione a fantasia che faccio non me lo prendo l'indecisione era sulle varie fantasie che abbiamo a disposizione ragazze ce ne sono arrivate anche di nuove una più bella dell'altra guardate che spettacolo però poi alla fine ho scelto il multicolor questa pure stupenda con questo ottenio veramente veramente bella e poi ancora le palme con il fucsia l'arancio il rosa cipria e poi ancora questa stampa con queste foglie gigantesche sul verde questa pure sarebbe benissimo vabbè vabbè e poi la versione tinta unita come quella che mi avete visto indossata l'altro giorno che abbiamo sempre disponibile e nella colorazione nera e nella colorazione blu elettrica l'indecisione era anche col blu elettrico ragazzi che sta benissimo addosso e nella colorazione che ci è arrivata nuova verde militare proprio come la versione tinta unita anche questo modellino qui ho deciso di indossarlo con la cintura elastica che mi dà la possibilità di sblusarlo e quindi renderlo leggermente più cortino in maniera tale che riesco a lasciar fuori il mio infradito quello con le borchie a 12 euro e 99 quello che è l'accettino che volendo si può mettere anche alla schiava ragazzi io la rotolo così sulla caviglia perché alla schiava non non mi ci trovo molto pratica però insomma quelli sono gusti poi 12 euro e 99 stavo dicendo la scarpa con le borchiette l'infradito con le borchiette come tutta quanta la collezione delle scarpe estive aperte ragazze vorrei ricordarvi che tutta questa serie qui è tutta quanta 12 euro e 99 ancora abbiamo disponibilità per quanto riguarda i numeri a questo punto ragazze mettetevi comode perché vi faccio vedere quali sono gli articoli che abbiamo scaricato ieri a proposito vi devo far vedere mi ero dimenticata ragazze non avete visto le vetrine nuove bellissime c'è delle bombe che abbiamo messo in vetrina che sono una cosa strepitosa per quanto sono belle cominciamo quindi a vedere quali sono gli articoli il vestitino a fantasia l'avevamo già visto mi è rientrato di nuovo disponibile perché vi è piaciuto l'abbiamo stravenduto nella colorazione sul marrone nella colorazione con la base chiara nella colorazione con la base scura parliamo del vestitino incrociato con la con la riuscetta sulla spalla il vestitino che in taglia unica ma che ha un'ottima vestibilità anche per quanto riguarda la parte dello scollo è ottimo questo e il modello che ha la gonnellina che rimane morbidina quindi scende giù bella morbida che balzetta finale poi allora ragazze questo modellino qui di pantalone con la bandana che stiamo vendendo benissimo c'è arrivato finalmente anche nella colorazione verde salvia bellissimo il tessuto è un cotone quello ottimo la vestibilità è quella con la vita medio alta la gamba che rimane sagomata la lunghezza del pantalone è un capri che può essere risvoltato e quindi regolato effetto pinocchietto le taglie ci sono tutte la tasca è quella con il taglio chinos zip bottone ragazze veste benissimo l'abbiamo portato anche nella versione verde salvia e quindi ce l'abbiamo disponibile ancora nella versione nera la versione verde salvia e nella versione camel poi mi è arrivato questo modellino qui ragazzi aspetta vediamo se riesco a farvelo vedere questo modellino qui di pantalone che è molto simile che ha sempre le tasche col taglio chinos la vita medio alta la vestibilità che è ottima la cinta in questo caso è un eco belle in in dotazione anche questa qui con il pantalone la lunghezza è sempre quella con l'effetto capri quindi che si ferma sopra la caviglia e può essere risvoltata e diventare un pinocchietto questo modellino qui è fantastico perché pur essendo bianco non traspare perché a cotone e ha una vestibilità eccezionale i miei vestiti quello che indosso io oggi ve l'ho già fatti vedere vi dico che mi sono arrivati altri due modelli passo da questa parte perché sto un pochino più comoda per farvi vedere no eccomi qui ragazzi allora vestito in georgette quello che ha lo scollo all'americana ok che vuol dire che ha la il cinturino che va a chiudere la scollatura scollatura che possiamo regolare più o meno a collata una vestibilità ottima bello perché rimane anche un pochino elegantino quindi questo è veramente fantastico disponibile e nella colorazione con la base sul verde e i fiorellini i fiori fiori non fiorellini sulla glicine e nella colorazione con la base sul chiaro e i fiori sul avion detto fatto ragazze l'altro giorno è passata una cliente mi ha detto manuela ti mancano i vestiti in viscosa spalla larga morbidi morbidi lunghi sai quelli proprio freschi freschi eccoli qua vestito che rimane svasato anzi svasatissimo ragazze guardate che bello quello proprio morbido che metti lì vai e sei perfetta spalla larga scolla v avanti e dietro taglia unica con un'ottima fantastica vestibilità il tessuto è viscosa leggerissimo disponibile nella colorazione verde militare disponibile nella colorazione camel disponibile nella colorazione nera perché voi mi chiedete le cose e io ve le porto ragazze allora andiamo avanti a questo punto altra news veramente tantissime le news che abbiamo scaricato ieri delizia maglia in cotone t-shirt che però non ha la mezza manica ma questa questa greca fatta da una fettuccia ragazze che va a chiudere il giro manica vestibilità fantastica da mettere sul jeans da mettere su un pantalone a colpo d'occhio oddio vediamo se ci riesco ecco a colpo d'occhio vi dico che arriva a metà ciappetta secondo me questa carina da mettere pure su un jeans la parte della grechetta con le frangettine ce l'abbiamo disponibile nella versione fucsia nella versione con il blu elettrico e nella versione con il nero la base della t-shirt sempre bianca la taglia è sempre unica il giro collo è sempre lo stesso e poi mi è rientrato di nuovo disponibile a grande chiesa la smanicata di chambri quella che ha i bottoncini il tessuto e cotone taglia unica ottima la vestibilità giro manica è fantastico sta bene a chi ha il seno grande sta bene a chi è proprio formosa ma sta bene anche a chi è un po più piccolina bottoncini bottoncini che non si aprono ragazze quindi state tranquille non rimanete nude se vi fanno uno scherzetto allora mi è arrivato poi e l'ho già venduta nella versione bianca ragazze non sono riuscita neanche a farvelo vedere neanche a fargli la foto ma l'ho già rimandato in ordine perché è deliziosa il tessuto è leggerissimo è una smanicatina con questo fiocchettino che volendo si può regolare un pochino perché va a chiudere la scollatura quindi volendo anche leggermente più aperta deliziosa modellino un po morbido quindi è fantastico per chi ha il seno grande è fantastico per chi è un po più formosa o comunque vuole una blusa che rimanga comoda fresca e non si attacca assolutamente questo è il modellino che veste benissimo che può essere portato anche con la cinturina che se siete piccine arriva a metà ciappetta è carino da mettere pure con la cintina legata magari sblusato modellino e collettino alla coreana al momento l'abbiamo disponibile e nella versione nera e nella versione verde acqua che ragazze è una cosa incredibile per quanto riguarda la colorazione bello 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 poi andiamo avanti per quanto riguarda i pantaloni mi sono rientrati i pantaloni di chambri quelli a palazzo e quindi abbiamo l'assortimento delle taglie per questo modellino qui che ha l'elastico in vita che parte dalla s arriva fino a una doppia xl che ha le tasche tagliocinos che ha la gamba che scende giù a palazzo e che quindi è leggerissimo perché lo chambri è cotone leggero leggero ma mi è arrivato soprattutto new entry modellino in cotone freschissimo elastico in vita modella caramella disponibile nella versione camel disponibile nella versione nera ovviamente disponibile nella versione verde militare ragazze c centina che volendo si può togliere quindi può essere sostituita il modello a palazzo arriva alla caviglia veste benissimo ragazze bello 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 taglia unica con un elastico in vita con un'ottima vestibilità questo pure ci piace e poi e poi new entry volevo dire new entry ma è uscito news news ragazzi new entry o news che dir si voglia maglioncino traforadino bello bello l'abbiamo messo pure in vetrino guardate un po spettacolo quello ci piace tanto la lunghezza quella giusta perché comunque copre leggermente il passante del jeans si può mettere benissimo anche se vi faccio la foto del look of the day con questo sopra il vestito così vediamo come sa e modello traforato a rete quindi non è pesante assolutamente da mettere sopra un top crop sopra una canottierina sopra il reggiseno basso sopra il consumo pensando a quest'estate e a un aperitivo sulla spiaggia ragazze bello bello manica corta leggermente pepistrello mi piace occhi aperti nelle foto look of the day perché me lo provo sopra il vestito se ci sta bene me lo posso disponibile ovviamente dentro oltre alla colorazione oggi ha piovuto ragazze non riesco a parlare benissimo oltre la colorazione cammello nella colorazione blu elettrico nella colorazione nera e ovviamente l'abbiamo visto verde militare no credevo ci fosse il bianco dopo l'abbiamo visto bianco nella vetrina e c'è anche disponibile nella versione verde militare ce ne la posso fare mi sono rientrati abbiamo avuto anche un riassortimento per quanto riguarda lo spolverino traforato sempre a mezza manica quello che abbiamo visto negli ultimi giorni che avevamo fino a ieri in vetrina che vi è piaciuto tantissimo di nuovo disponibile nella colorazione cammello di nuovo disponibile nella colorazione nera di nuovo disponibile nella colorazione bianca accelera un pochino ragazze perché se no non riesco a farvi vedere tutti gli articoli allora eccomi qui tutto è talmente piano il negozio ragazze che wow allora new entry la vediamo qui sul busto perché abbiamo rifatto anche i tavoli ragazze blusa in viscosa stampata bella 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 la manica è corta anche se non troppo quindi comunque per chi vuole la mezza manica quella classica quella che non fa vedere proprio le braccia ragazzi è questa ottima la vestibilità che abbiamo disponibile con i fiori nella fantasia con il rosa e l'arancio disponibile nella versione con il verde menta il verde un po' più scuro disponibile anche nella versione con il blu e il celeste queste ragazze belle belle da lasciare scese che lasciano e coprono le macagne ma possono essere anche messe dentro al pantalone sblusate ma anche dentro una bella gonna ma anche su un jeans questo su un jeans sarebbe benissimo belle belle ragazze mi continuano a rientrare i pantaloni con il risvoltino in sangallo e a proposito di sangallo passo un attimino da questa parte perché ragazze questo è proprio il suo new entry sangallo l'estate guardate che carino sangallo sopra sangallo sotto magliettina cortina ma nemmeno più di tanto me la sono provata prima con una ragazza per farle vedere come stava indossata è deliziosa perché ha tutta questa parte del busto praticamente da sotto al seno fino all'ombelico che ha dei fili elastici che vanno a chiudere ma sta benissimo è morbida volendo si può mettere con le spalle scese perché ha l'elastico nella parte del collo quindi tranquillamente si può regolare manica leggermente a palloncino adoro il sangallo l'ho sempre adorato questa delizia di magliettina ce l'abbiamo disponibile e nella colorazione sabbia e nella colorazione bianca e nella colorazione nera adoro adoro vabbè tornando da questa parte ragazze finalmente è arrivato il lino ragazze giacchina anzi blazer in tessuto di lino la leggerezza guardate bello riveste tantissimo la manica volendo si può anche risvoltare quindi rimane leggermente larghetta non è quella con la manica aderentissima anche perché lì non può essere aderentissimo non è elasticizzato ottima la vestibilità disponibile questo modellino qui nella versione bianca nella versione nera nella versione verde militare nella versione cammello chiaro chiaro un sabbia scuro in realtà non proprio cammello bella fresca leggera riveste e tanti su un pantalone su un vestito ragazze soprattutto queste giacchettine stanno benissimo allora assortimento per quanto riguarda il topino il raso con lo scollo avanti e dietro con la bretellina spalla fina fina che rimane leggermente svasatello nelle fantasie una più bella dell'altra ragazze l'abbiamo messa anche qui sul busto quello me lo sono preso io però questo modellino l'abbiamo messo anche qui sul busto ragazze non faccio un tempo a metterlo che devo cambiare subito le fantasie perché vi piacciono tantissimo e mi finite tutto quello che esponiamo meno male sono contenta delizia di fantasie una più bella dell'altra ragazze abbiamo proprio tutte le tonalità per poterle abituire su qualsiasi colorazione dei pantaloni o su qualsiasi colorazione ragazze udite udite di gonna magari e perché no una gonna in raso lunga in taglia unica in tinta unita soprattutto abbiamo visto e adorato questo modello di gonne nella versione a fantasia e come non amarlo come non adorarlo anche nella versione in tinta unita ce l'abbiamo disponibile sempre lunga sempre con l'elastico vita sempre con un'ottima vestibilità questo modellino qui che si può regolare un po più in alto proprio in basso per quanto riguarda l'altezza disponibile nella versione blu elettrico disponibile nella versione champagne ragazze la finezza di raso in tonalità champagne e nella versione nera bella bella ottima la vestibilità e poi invece per concludere su questa la qui del negozio ragazze vi faccio vedere che mi sono rientrato in l'assortimento completo delle fantasie del pantalone in tactile in taglia unica guardate che belline tutte quante le fantasie ottima la vestibilità pantalone in tactile quello che non si stira quello che è a palazzo che è freschissimo che si può portare anche per tutta quanta l'estate ragazze di nuovo disponibile c'è anche questa fantasia guardate che belle c'è solo l'imbarazzo della scelta per questo per questo pantalone perché veste benissimo una taglia unica che veramente calza benissimo c'è una marea di signore che vanno matte per quel tessuto e hanno ragione perché fresco pratico si lava e si asciuga velocissimo non si deve stirare non si stropiccia sta bene con tutto anche con una cosettina un pochino più elegante si riesce a portare benissimo di giorno e lo stesso modello di pantalone quindi sempre a palazzo col stesso tessuto sempre in tactile ragazze anche nella versione in tinta unita perché non può mancare perché è comodo pratico elegante bellissimo riveste benissimo che fanno lo fai in tinta unita certo che lo facciamo in tinta unita c'è ovvio e nella colorazione questo è un verde latte menta bello e nella colorazione champagne questo ragazzo è un pantalone versatilissimo si può mettere dalla ciabatina al tacco dal topino scialato un po più elegantino magari perché no oppure vi faccio vedere un abbinamento guardate che bello anche nella versione nera il blu e il blu inchiostro l'ho fatta appena adesso vedere ragazze guardate che completino che vi faccio allora vabbè il pantalone ce l'ho in mano nero però ovviamente possiamo metterlo in qualsiasi altro colore anche il champagne sarebbe benissimo guardate che bello abbinato al top di raso quello che ha le bretelline strassate con gli strassetti bello bello riveste tantissimo allora ragazzi a questo punto vi ho fatto una story seppure balla lunga perché vi ho fatto vedere tutta questa parete qui mi mancano di questa parte qui vi ho fatto vedere soltanto due tre articoli ma vi dico che sono le 13 e 21 perché nel frattempo è trattata pure un po di ragazze sono passate a trovarmi nel frattempo quindi questi articoli qui che sono su questa parete ve li farò vedere domani mattina e adesso vado a fare la foto del look of the day con questo bel vestitino anche perché quella col vestito nero non l'ho fatta ragazze ma è proprio passato di mente perché già abbiamo avuto un po di gente quindi ci vediamo domani mattina perché oggi è giovedì il punto vendita sarà chiuso nel pomeriggio a partire dalle 9 e 30 io vi aspetto sempre operativi online per qualsiasi informazione sono a vostra disposizione rgn la versi c'è ci vediamo ciao